Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come andare a determinare il mix ottimo produttivo per una funzione di produzione Cobb-Douglas. A questo punto andiamo subito a calcolare il saggio marginale di sostituzione tecnico, quindi l'approccio all'esercizio è calcolare le produttività marginali del capitale del lavoro. Cos'è il prodotto marginale? Il prodotto marginale indica la variazione dell'output per una variazione del capitale, ovvero l'incremento che è capace di dare in termini di output un elemento del fattore che stiamo prendendo in esame. Quindi se è aumento di un'unità il capitale, di quanto questo è in grado di aumentare l'output?